Book two Quarantatré Allo zoo Lì c'è lo zoo Lì ci sono le giraffe Dove sono gli orsi? Dove sono gli elefanti? Dove sono i serpenti? Dove sono i leoni? Io ho una macchina fotografica. Io ho anche una telecamera. Dove trovo una batteria? Dove sono i pinguini? Dove sono i canguri? Dove sono i rinoceronti? Dove sono i rinoceronti? Dove sono i servizi? Dove sono i servizi? Lì c'è una caffetteria. Lì c'è una caffetteria. Lì c'è un ristorante. Lì c'è un ristorante. Dove sono i cammelli? Dove sono i cammelli? Dove sono i gorilla e le zebre? Dove sono i gorilla e le zebre? Dove sono le tigri ed i coccodrilli? Dove sono le tigri e i coccodrilli?